Cari amici, Dylan Dogg, l'investigatore dell'incubo, l'anticonformista nato, il playboy consumato, forse si è arreso, alla fine è stato sconfitto. Chi non conosce il detective inventato da Tiziano Sclavi, detective a fumetti, è un'icona, il volto ispirato a Rupert Everett, la camicia nera, la giacca rossa, i blue jeans, le clarke ai piedi. Insomma, questo personaggio che molti amano non si è mai piegato al pensiero alla moda. Pare che lo farà ora, dopo anni di onorato servizio, perché Dylan Dogg, che è un mito per generazioni di lettori, nasce dalla fantasia appunto di Tiziano Sclavi nel 1986, il primo albo si intitolava La notte dei morti viventi, era pubblicato come tutti gli altri da Sergio Bonelli, ed era disegnato quel numero da, se non ricordo male, ma ve lo dico con precisione, da Angelo Stano. Adesso siamo arrivati al numero 399 e il titolo è Oggi sposi. Ma chi si sposa? Sarà probabilmente Dylan Dogg con qualcuna delle sue amanti su 399 numeri, ne abbiamo viste altrettante. No, invece si sposa con Groucio, che è il suo assistente. Groucio è un freddurista, ispirato chiaramente a Groucio Marx, il grande comico, e ai baffi, e non porta la gonna, insomma è un uomo. Quindi sarà un matrimonio omosessuale. Molti hanno pensato che fosse una gag, una specie di escamotage, ma il disegnatore, cioè lo sceneggiatore e direttore e curatore della collana di Dylan Dogg, Roberto Recchioni, ha invece assicurato che non si tratta di uno scherzo, dice Recchioni, che anzi questo è un matrimonio d'amore. Certo, tutto è possibile, specie nel mondo dei fumetti, dopo aver visto Dylan Dogg amare centinaia di donne, adesso scopriamo che in realtà è omosessuale, va bene, niente di strano, niente di male. Ma c'è una cosa, no? Che Dylan Dogg ha sconfitto i vampiri, ha sconfitto le streghe, ha sconfitto gli zombie, ha indagato l'incubo, eccetera, eccetera, ha sempre vinto, ma questa volta pare sconfitto dal politicamente corretto. Ma sarà davvero così? O sarà soltanto un escamotage per attirare l'attenzione su un fumetto che negli ultimi tempi sembrava avere il fiato piuttosto corto? Lo scopriremo nei numeri che vanno tra il 401 e il 406.